Pozzuoli, capitale dei campi flegrei, potrebbe diventare il set cinematografico per il nuovo progetto di uno dei registri più importanti della storia del cinema. Il promontorio in tufo sul quale svette il rione terra rischia infatti di diventare la location del nuovo lavoro del due volte premio Oscar Steven Spielberg, che da tempo sta lavorando ad una sceneggiatura firmata da un altro genio indiscusso della cinematografia, Stanley Kubrick. Si tratta di una miniserie per il piccolo schermo che ripercorre gli anni dell'esilio di Napoleone Bonaparte sull'isola di Sant'Elena. A stregare il regista statunitense che personalmente si è recato in visita nel golfo di Pozzuoli, le quattro grotte naturali scavate nel tufo situate proprio ai piedi del rione terra. Una fallezia che ricorda alcuni scorci dell'isola situata a largo delle coste africane sulla quale Napoleone viste i suoi ultimi anni. Non è passato inosservato ai puteolani il mega yacht da 85 metri e attraccato nei giorni scorsi a largo delle coste puteolane, il Sea and Seas, rimasto ancorato di fronte al costone di Tufo per quasi un'ora e dal quale Spielberg è sceso a bordo di un tender insieme al suo entourage per vedere da vicino le grotte. Napoleone è un progetto elaborato da Kubrick nel 1961 e rimasto nel cassetto per anni, forse proprio in attesa di trovare il set ideale e pare che Pozzuoli abbia buone chance. Proprio questo pomeriggio infatti due rappresentanti della Warner Bros. sarebbero arrivati a Pozzuoli per incontrare il sindaco Vincenzo Figliolia e discutere tutti i dettagli della futura produzione, attesa dai cinefili di tutto il mondo. E non è tutto, pare infatti che le bellezze dei nostri luoghi abbiano stregato a tal punto la major americana da volerli anche come scenografia per un secondo progetto in cantiere, un film sui reduci della guerra del golfo, anche se per il momento si tratta solo di indiscrezioni.